Mi auguro che sia un disco importante, così come l'ho avverto, l'ho avverto io. Poi è il giudizio del pubblico, il giudizio della critica che stabilirà se è stata una rinascita. Quindi per me è importante, infatti la coincidenza che uscirà il giorno del mio compleanno, insomma è importante, è la prima volta che faccio coincidere queste due date, proprio perché vorrei in qualche modo con questo lavoro ritornare alla normalità, ritornare alla musica che era la mia quotidianità, niente di più e niente di meno. Se l'Invido Mar, che era il disco precedente, che ha avuto purtroppo una vita brevissima, visto che ho chiuso Bottega un mese dopo l'uscita del disco, c'era stata un po' una volontà di staccarmi completamente dal mio passato, di scollarmi di dosso a 15 anni con i Timoria e purtroppo non c'era la pacchetta magica per farlo. Volevo fare un disco completamente diverso da quello che erano i disci di Timoria, pur mantenendo fede e fedeltà al mio modo di scrivere le canzoni. Avevo quindi cercato, circondandomi di jazzmen, importanti, di personaggi, quindi che facevano parte un po' di quel mio mondo di miti, di studente, di jazz. Avere la possibilità di averli con me mi ha fatto fare un disco molto raffinato, molto, se vogliamo, un po' rock, quindi in questo senso. Oggi che ho metabolizzato ormai il fatto di non avere più i Timoria con me, ed è stata dura metabolizzarlo, ho potuto fare un disco, perché no, facendo di nuovo rock, quindi riprendendo la mia chitarra in mano. Pensa che in Dido Mar non mi era stato possibile suonare nessuna chitarra. E per un chitarrista come me era stata comunque una scelta molto estrema accettare di farlo. Qui ho ripreso la mia chitarra, sono andato in studio e stavo vendendo con un album alla Timoria. Quindi, intuito questo pericolo, ho deciso di affidarlo a Cristian Piccinelli, che comunque ha come suo immaginario musicale i Depeche Mode, piuttosto che i Craftwear, piuttosto che il Human League o la Dance addirittura, visto che è un produttore di questo mondo. Ho voluto dare il sound dei Timoria in mano a un produttore, comunque un coproduttore del genere, per ottenere i Timoria del 2006 in qualche modo, e quindi di avere un disco contemporaneo. Quella era la mia esigenza più forte. Volevo che fosse marcatamente così. Sicuramente contemporaneo significa sentire lo spirito del tempo in un disco. E quindi, non so, per restare in Italia, credo di i dischi dei subsonica, mi suonino sempre molto contemporanei. Sicuramente non i dischi di Timoria, che però avevano il loro fascino proprio nella ricerca, magari di rimangare il passato, piuttosto che guardare nel futuro. Sono filosofie diverse, non so, un po'. Oggi una delle poche cose italiane che mi piace è Capo Seda. Credo che abbia poco di contemporaneo nei suoi dischi, però sono dischi fatti da Urgenze, che in qualche modo interaggiano la sua esigenza in questo tempo. Dopo aver saputo la tragedia che è occorsa a Bertrand, e soprattutto alla sua compagna, avendo conosciuto Bertrand come una persona comunque sempre in difesa dei deboli, una persona molto sensibile, un artista. Oggi, sai, la parola artista è bestemmiata, la fidiamo a chiunque. In realtà, per me l'artista è colui che ha la amai. Lo scuole Bertrand era sicuramente un artista ed è un artista. Ho riflettuto su quanto, oltre alle passioni, si possono trasformare in tragedie. Più grande è la passione, più grande è un amore, più sensibile è l'essere umano a determinate pressioni e condizionamenti. Allora, per la prima volta ho voluto scrivere una canzone dalla parte del carnefice, non dalla parte della vittima. Ecco come è nata questa canzone. Mi sono immedesimato anche perché ho provato l'esperienza drammatica del tradimento e quindi raccontando questa storia mi sono provato a dire se io avessi barcato quella soglia quella notte, cosa avrei fatto? E ho capito che in me c'è un violento, in me c'è un assassino. Io quando sono a Milano e mi fanno dei gestaci gli automobilisti vicino avrei voglia di scendere dalla macchina e di dargli un cazzottone sul muso. Non lo faccio, non perché io sia più buono degli altri, ma perché probabilmente c'è una lampadina che rimane sempre accesa in me che condiziona il mio comportamento secondo il buon senso. Tutto lì, la mia differenza è quella. E dedicato a Bertane e a Marie è stato un modo di celebrare il loro amore che ahimè ha avuto un epilogo così triste, così drammatico e anche per lui che è stato dipinto come un mostro e che comunque quando so tutto che ha tentato travolte i suicidi al carcere avrei voluto dargli una carezza in qualche modo. Pur non dimenticando che la prima vittima è stata lei, ma credo che siano morti in due quella notte.